Allora, ragazzi, io so che voi volete una risposta specifica, ma non è la cifra, è il numero di transazioni. Per cui io posso dirti per me che da listing da solo sono arrivato a 30-35 transazioni, con un buyer sono arrivato a 60, con il team a 113. Per cui non è tanto il fatturato, ma è il numero di transazioni. Team significano persone, effettivamente, l'essenza dell'azienda. Allora, dal momento in cui si fa il reclutamento, a me è capitato questa settimana di fare tre colloqui e quando sono arrivato al punto della partita IVA dopo un'is per capire se erano tutti e tre sbagliati, suggerisci una prequalifica al di là che nell'annuncio comunque dove pubblichiamo c'è scritto partita IVA, minimo. Allora, guarda Fabrizio, ti rispondo in questo modo qui. Sul test attitudinale tu vedi un dato che si chiama finanza. Se è zero, non diventerà mai un imprenditore, né un libero professionista. E non lo puoi cambiare quella roba lì. Io so cosa mi riferi perché è una cosa che ho sentito più spesso. Lì i ragazzi non sorpasseranno mai quella soglia di acquisto lì. No, c'è un indice nei test che uso io che è zero, cioè che è da zero a 100. E si chiama finanza al tratto comportamento. Se è zero è un dipendente dello Stato, è anche un dipendente. Dal 40% in su tu sai che puoi lavorarci. In realtà nel processo che ho io faccio, cioè io te la faccio breve, io non sto assumendo dentro la mia agenzia, però non cambia. Per cui facciamo finta che devo assumere, prendere un nuovo sales. Colloquio su Zoom, sento un po', dopodiché se è ok c'è un percorso che deve fare prima di entrare e cominciare e in quel percorso gli faccio fare il test attitudinale. Esattamente, però prima ci faccio una chiacchierata perché il test ha un costo ragazzi, per cui almeno una chiacchierata voglio vederlo in faccia. Mi presenta uno con l'anella al naso. 30 secondi metti di orologio, anche se non ce l'ho, per una grande novità. Quello che posso condividere ovviamente su YouTube per motivi organizzativi è l'1% forse di tutto quello che c'è dietro al mio mondo e quello che insegno nella mia formazione. Ma una bella notizia. 2, 3, 4 ottobre Bologna. Ci sarà il vertice degli agenti immobiliari in Italia, il più grande evento in Italia. Mi avete chiesto a gran voce con dei messaggi, contatti, eccetera, che volevate qualcosa in presenza, una cifra abbordabile. E io vi ho ascoltato ragazzi. Parleremo di mindset vincente, di come acquisire 6, 7, 8, 10 incarichi al mese, come utilizzare l'open house per trasformarli in un asset per vendere e acquisire, come creare un team che ti permette di staccare il tuo tempo dai guadagni e soprattutto le nuove frontiere del marketing del personal brand. Avremo degli ospiti davvero speciali. Questo evento era talmente importante per tanti agenti immobiliari che hanno proceduto immediatamente all'iscrizione. 2, 3, 4 ottobre, sono aperte le iscrizioni, clicca qui sotto nel link e in descrizione per avere tutti i dettagli e per riservare il tuo posto. Ciao, da Simone. Cosa facciamo? Lo prendiamo o no, Francesco? Non lo prendi? Non lo prendi? Questa è la bella risposta. Sapete che al primo colloquio mi sono presentato con tre orecchini? Uno, due e uno al naso. Mi sono seduto e mi fa... No, no, no. E mi fa... E cosa dobbiamo fare qui? Mi disse... In che senso? Fa... Con gli orecchini? Me li dai a me adesso? E glielo dati lì adesso. E oggi sono nel mondo immobiliare. E ringrazio quelli... Tra le altre cose, non so chi c'era... Era stamattina il tipo che ho incontrato qui fuori. Era vent'anni che non lo... Mi hai visto? Era vent'anni che non lo vedevo. Quello è stato il mio primo attività. Ma cosa fai qui? No, era... Sì. Non è qua? No, era in un'altra sala. Era in un'altra sala. Incredibile. Mi ha fatto venire in mente una cosa... Un pochino. Mi ha detto, bravo Simone. So che sei il primo al mondo. Guardate la percezione. Io so che sei il primo agente al mondo. Mi ha detto... Ho detto... Ho pompato un po' troppo. Però, percezione. Top. Cioè, ha guardato il collega... Non so se eri lì vicino a me. Cioè, era il mio... Ha guardato... Fa... Questo è il primo agente al mondo. No, no. Fa altre cose. Allora, ultima domanda. Poi andiamo in pausa e facciamo l'ultimo blocco. Vai, Tommaso. Simo, volevo chiedere la tempistica dell'inserimento dei vari voli. Dipende da te. Ribadisco. Quando sei a tappo devi allargare. Per cui... Ci posso fare degli esempi per me. Per cui, diciamo che dal 2015 ho cominciato a fare l'agente immobiliare seriamente. 2017 ho inserito questa figura. A metà 2018 ho inserito questa figura. Sonia, quando sei arrivata a te? Io mi ricordo ancora quando sei entrata, innocente. E adesso sei diventata una macchina. Vi devo raccontare una cosa. Sapete che Sonia sbobina tutti i miei video. Quindi in realtà lei è la persona più formata del mondo. Cioè lei è di fortunata e di fianco. Adesso è andato via però Fabrizio. Lui è di fianco al male al vetro e praticamente è sempre in formazione passiva. Tipo il fumo, capito? Ho detto Fabri, metti all'asta il tuo posto. Ho detto Fabri, metti all'altro. Fii.